Ok, stampare prima e terza. Questa è una delle tante produzioni televisive che si realizzano qui negli studi cinematografici di Arlington, di cui è proprietario Ed Straker, un tipo eccentrico sulla cresta dell'onda. Grazie a tutti. Quella che avete visto è una sintesi di Shado, l'organizzazione finanziata dal Pentagono per la difesa contro gli attacchi di una sconosciuta potenza extraterrestre. E questa è la vera identità di Ed Straker, comandante in capo di Shado, uomo di ghiaccio, autentico super cervello dell'intera organizzazione i cui impianti elettronici, altamente perfezionati, sono stati installati nei sotterranei degli stabilimenti cinematografici. La sala controllo radar di base Luna è collegata al comando Shado a terra via satellite per intercettare e neutralizzare gli attacchi di strani rotori classificati con la sigla UFO, provenienti da un ignoto pianeta. È stato accertato che questa specie di misti volanti è bilocata da umanoidi, detti esseri colpiti da un male inesorabile che li distrugge nel corpo, spinti dalla basilare somiglianza dei caratteri somatici e fisiologici che li accomuna al genere umano, rapiscono i terrestri per procurarsi parti di ricambio atte al trapianto nel disperato tentativo di sopravvivere. Per questo è nata Shado, per la difesa del genere umano. Qui base Luna, controllo radar base Luna annuncia allarme rosso. Ripeto, allarme rosso, piloti intercettori raggiungere Sky Rocketers, uno, due, tre. Giù. Base Lunare chiama centrale Shado. Sky Rocketers, uno, due, tre. Lancia missili raggiunta a posizione zero. Zero. Partenza immediata. Base Lunare al comandante. Base Lunare al comandante Straker. Sky Rocketers, uno, due, tre. Zona contatto, meno sette, cinque. Ricevuto. Sembrano delle anitre impazzite. Corrono via anatiche strette ragazzi. Si stanno ritirando. Jack, Jerry, pronti con le supposte. La mia è oliata perfettamente. Li stanno adescando. Jim Rigan, tornate indietro, è un ordine, capito? Centrale Shado, tre altri UFO si stanno avvicinando. Riferimento? Orbitale 318. Il solito inganno. Sky Rocketers, intercettateli, dirigono su base Luna. Il solito inganno. Grazie a tutti. Un bel guaio. Una supposta gliela piazzerei anch'io, se fossi lassù. Comunque sia, quei ragazzi hanno fatto un buon lavoro, vero comandante? Un buon lavoro? Quei ragazzi andrebbero sospesi tutti in blocco. Ma come... è come se giocassero. E specialmente Righam. Che si presenti al rapporto da colonnello Foster. Mica male, eh? Secondo il dottore devi calare di peso. È Straker che ce l'ha con me, non il dottore. Niente colpi bassi, Foster. Non ho la conchiglia di protezione. Così, Raffinici. Una buona volta. Farsi piano con i doppi sensi. Oggi basta. Straker ha detto non più di un'ora. Almeno mia moglie non mi scambierà per un relito vagante in orbita. Su le chiappe. Esatto. Però quel colpo basso... Colpa tua? Ma è una volta che ti saltasse in mente di osservare le regole. Eh già, sono un ribello. Niente di rotto? No. Allora alza i tanti. Ah, Foster. Lavorateli bene quei due. Certo. Eh no, fatevi almeno respirare un momento, ragazzi. Jim. Tesoro. Ciao. Hai fatto molto tardi, sai? Ero già in pensiero per te. In pensiero. Adesso ci rimettiamo in pari. Vuoi? Mi dispiace, Jim, ma non è possibile. I Thompson, ci aspettano. Già, lo spiritismo. Già, lo spiritismo. Già, lo spiritismo. Jim, ti senti male? Ci vuole qualcosa d'alcolico? Scoccio liscio, Regan. No. No. Sto bene. Non guardatemi così. È solo... Stanchezza da super lavoro. Eppure non mi convinci, Jim. Le sedute spiritiche mi conciliano il sonno. Meglio... Meglio tornare a casa, G. Certo che non ho fatto una bella figura, vero? Devo... Devo essere più stanco di quanto immaginassi tutto qui. Mi preoccupi, Jimmy. Lascia perdere e non metterti strane idee in testa. E soprattutto non dirmi che credi agli spiriti. Chiaro che non ci credo. Ma ogni giorno che passa mi sembri sempre... Te l'ho già detto, ho avuto dei giorni durissimi. Ci dormo sopra e domani sono come nuovo. Ma hai sbagliato strada, te ne sei accorto almeno. È strano. Ma che diavolo mi succede? Vuoi che guidi io? Sì, sì, forse è meglio. Ma che ti prende, Jimmy? C'è qualcosa sulla strada. È un gattino. Povero Micio, è stato abbagliato dai fari. Micio, Micio, Micio. Carino. Chissà che paura ha avuto. Comunque è nato con la camicia. E questo vuol dire che Jimmy in riga ancora non dorme ad occhi aperti. Tesoro. Sì? Senti. Sarà un randaggio, poverino. Qui ti volevo. Sai cosa faccio? Lo porto a casa e mi terrà compagnia quando tu sei lontano. Che ne dici? Ecco fatto. Così per ora il tradimento è bello e assicurato. Accidenti. Si è bloccato. Aspetta che do un'occhiata alla scatola dei fusibili. Jim, guarda là. Jim, guarda là. Jim, guarda là. Ehm... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Regan! Impronta positiva. Contatto. No. Ma perché? Perché non hanno portato via anche me? UFO test negativo per voi, positivo per lei. Eh? Cosa? Non c'è altra spiegazione, Regan. Vostra moglie era più idonea. Non è possibile. Io sono a posto. Perché non anche me, Straker? Vi hanno classificato meno zero. Cervello, sangue e tessuti corporei inadatti al trapianto. Ma perché lasciarvi in vita? E guarda caso incappano proprio in un pilota shadow. Potrebbe essere una coincidenza. Quattro persone sono state prelevate su quella strada tempo fa. Una giovane donna invece è stata ignorata. Abbiamo scoperta. Abbiamo scoperta. Abbiamo scoperto più tardi che l'avevano dimessa da una clinica psichiatrica. Non serviva. Dovete sostituire Regan. Niente affatto. Domani presterà servizio col primo turno Sky Rockators. Sicurezza base Luna. Ma vi rendete conto che è sotto shock? In questo momento... Colonello, gli UFO non resistono più di 48 ore sulla Terra. Dopodiché si disintegrano. Per questo voglio tutti i piloti a disposizione. È tutto. Grazie a tutti. Lo sai che l'ingresso alla sala comando è vietato? Come sei entrato qui? Alla prossima. Allarme rosso. Allarme rosso. Decollo UFO. Area PZ017. Direzione AMBRA 4G. Velocità 1500. Base Lunare. Controllare rilevamento AMBRA 4G. Avvertire immediatamente i piloti di turno. Piloti secondo turno. Area blu 1-2. ETA-1-97. Rotta UFO. Decollo immediato. ETA-1-97. Rotta UFO. Velocità 1500. I calcoli sono errati. da tangente 4 a tangente 5, differenza 200. Aumentare velocità e intercettamento fino a 1.700. Bene, signore. l'ho spennato, dannazione. Velocità UFO aumentata a 2.500. Anni traseduta. Rigano lo centrerà. colonnello. Sua moglie è a bordo di quell'UFO. Ci vedo. Ci vedo. Rigano è rientrato alla base. Informare immediatamente tutti i settori. Paul Foster rimpiazzerà Jim Righam. Sì, signore. Jackson. Qui, Jackson. Ho appena sospeso Jim Righam. Domattina voglio un rapporto dettagliato su di lui, fisico e psichiatrico. Ah, eccoti. Dove ti ho ricacciato? Allora è tuo, Jimmy? Sì, l'ho trovato sulla strada prima che quell'UFO rapisse mia moglie. Cos'hai? All'improvviso mi è venuto un forte mal di testa. Vuoi tenerlo, per favore? Devi riposare, sai? Certo, certo. Partica. Grazie. 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 Ah, sei qui, Jimmy. Sai, devo dirti che mi dispiace molto per tua moglie. Ma le parole, sai, non servono a molto. Grazie. Oh, oh, oh Piloti di turno, 30 secondi al d'accordo Salve ragazzi Ehi Dick, non aspettavamo Foster a suo posto Sì, ma c'è stato un controordine Ma io non sono stato informato Foster non si sente molto bene Mi spiace sai, ma devo controllare, sono il capo turno Qui il capitano Minto Passatemi il maggiore hit Skyrocketers, uno, due, tre, cinque secondi al decollo Quattro, tre, due, uno Mi cito Dottor Jackson Qui Jackson Che succede? Non mi è ancora pervenuto il rapporto su Righam Non ho potuto rintracciarlo Il rapimento della moglie Trovatemi Righam, che si presenti subito al dottor Jackson Contatto radio Skyrocketers 3 interrotto Colonnello Lake Colonello Lake Mi viene sospetto che Righam sia in volo Ma non lo avevate sospeso? Nello Sky 3 qualcosa non funziona Il contatto radio, vero? Ecco, ci siete Cercatemi Foster Base Luna Base Luna Che è accaduto Che è accaduto? Su avanti, parlate È stato Righam Per quanto mi riguarda è impazzito Ma come? Come è possibile? Ho tentato di farlo ragionare Ma è stato inutile Sembrava un animale Avete detto un animale? Esatto C'è altro? Soffiava in un modo strano Come un gatto Un gatto? Colonnello Lake Ne sapete niente voi? Comandante, un gatto è stato trovato nella sala operazioni Apparteneva alla moglie di Righam Quando Jim l'ha preso in braccio Ha accusato un fortissimo mal di testa Jackson Sì? La vostra teoria sui computer umani Può essere applicata agli animali? Beh, così su due piedi io... Insomma, non è possibile Straker La struttura del cervello animale è differente? Che ne dite, colonnello? Dobbiamo trovare quel gatto Comunque, accertatevi che sia ancora qui Segreteria Miss Holland Sì che l'ho visto, comandante Ma mi ha perfino graffiata Comandante, lo Sky Rocketer 3 ha rotto la formazione Jim Righam Sky Rocketer 3 in linea di collisione base Luna Ripetiamo Sky Rocketer 3 in linea di collisione base Luna Usano Righam per distruggere base Luna Sky 1 2 Tangente 5 e 7 Inseguire e distruggere Sky 3 Ripetere, prego Avete capito perfettamente, tenente Sì, signore Sky Rocketer 1 2, distruggere Sky 3 Ripetiamo, intercettare e distruggere Sky 3 Tangente 5 e 7, ambra G4 Procediamo Tangente 5 Comandi bloccati Il cervello è bloccato Trovate quel gatto E come? I cani Perfetto I cani Colonnello, avete sentito? Sì, signore Sì, signore Sì, signore Sì, signore Sì, signore Non resta che attendere il prossimo attacco UFO L'abbiamo perso, comandante Già, è scivolato sotto lo schermo del radar Purtroppo Dobbiamo scovarlo State tranquillo, comandante Riusciremo a localizzarlo con qualsiasi mezzo Cioè, al primo segnale Cioè, al primo segnale invieremo i siamo venti Colonnello, un ufono localizzato È come una donna di troppo Cioè, al primo segnale, un ufono localizzato So, come un ufono localizzato Cioè, al primo segnale, un ufono localizzato Cioè, al primo segnale, un ufono localizzato Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Adesso non ho più dubbi. Di sicuro state tentando di nascondermi qualche cosa. Avanti, diciamo la verità. Siete imbottita di droga, vero? Su, scendete dall'auto, è in fretta. Sì. Allora, che c'è? Potete darmi un passaggio? Che vi è successo? La mia cafettiera ha preso il raffreddore. Perché non sia contagioso? Abito solo un paio di chilometri da qui, sapete? Va bene. Salite. Siete molto gentili. Non ci corre niente fra questa e la mia. Sì, credo proprio di avere una bella fortuna, vero? Direi. Una strada solitaria, eh? Già. Aria condizionata. La mia casa è laggiù, in mezzo al bosco. Vi siete scelto un posticino tranquillo, eh? Non so proprio come ringraziarvi, signor. Ero di strada, nessun fastidio. Comunque, non ci siamo presentati. Ma cosa vi prendo? Mi sentite male? Lasciatevi! Lasciatevi! Allarme auto, comandante Straker. Localizzato? Dov'è? A tre chilometri dal punto 14. Ambulanza. Come vi sentite? Siete mai stati tra le braccia di un orango arrabbiato? Ho la sensazione che vivrete, comandante. Proprio così. Mi dispiace per voi. Salve. Ah, Paul. Trovato niente? Ecco qua. Daniel Frederick Clark. Anni 44, bancario, sposato e con due figli. C'è altro? No, comandante. Nessuna registrazione criminale. Neppure un'infrazione al traffico. Niente. Un cittadino perfettamente in regola con la legge. Un uomo del tutto comune, almeno per ora. L'uomo comune mi ha sbatacchiato dall'altra parte dell'auto come un bambolotto di gomma. Sì, sì. A volte accade che in taluni individui si verificano certe condizioni psichiche che possono estrinsecarsi in una terribile forza fisica per brevi periodi. Tensione, fatica e alla fine tutto esplode. Dovreste prendervi una vacanza, comandante. Sto bene, Foster. Non preoccupatevi. Come vanno i nuovi piloti destinati a base luna? Quando saranno pronti? Entro cinque settimane. Diciamo sei settimane, comandante. Grazie, Maggie. Siamo in ritardo con la preparazione. Ecco qui, Paul. Leggete pure. Che cos'è? Un ultimatum. Se allo scadere delle 24 ore i termini non verranno rispettati... Per prima salterà in aria la centrale elettrica e quindi la base skydiver. E shadow per ultima, comandante. A meno che l'organizzazione non cessi di operare. Arrendersi. C'è scritto così. L'aggressore mi ha lasciato quel messaggio in tasca. Centrale elettrica e base segreta dei sommergibili localizzate perfettamente. Questo Clark sembra molto bene informato sulla nostra organizzazione. Attenzione, mettere sotto controllo ogni installazione shadow. Passatemi la linea diretta con gli skydivers. Sì, signore. Base luna in allarme giallo immediatamente. Al prossimo. Sì, signore. Altra, vedi. guro! Sì, signore. Bilassoni. Tornoli! Tornoli! Che succede? Allarme perimetrale, sezione 4 Mandate subito il turno Turno 2 alla sezione 4 Allarme elettrico, rete perimetrale Fermo, fermo dove siete Aterra Cammina Dentro Lo abbiamo preso, gli mettiamo la tuta di sicurezza Non ho fatto niente, come ve lo devo dire Eh, cammina Cammina Fermo Che succede? Allarme perimetrale, sezione 4 Mandate subito il turno Turno 2 alla sezione 4 Allarme elettrico, rete perimetrale Quattro minuti dopo un'esplosione, forza 17 L'esperto vuole spiegarci? Ammetto di essere perplesso Clark è stato spogliato per essere sottoposto al controllo elettronico Si è svolto tutto in un lampo Da non poter stabilire se sarebbe risultato negativo ai raggi X Per un'esplosione, forza 17, ci vogliono 10 libri di esplosivo Ho due pinte di nitroglicerina Capitano, raggiungete subito la base sottomarina I prossimi obiettivi dei sabotatori sono gli skydivers Il piano stradale va abbassato ancora di tre pollici Di questo passo finiremo la prossima settimana Ma che state dicendo? Siamo già in ritardo Come? Siamo in ritardo sul programma Ecco che cosa ho detto, non ce la faremo E adesso dove ci attacchiamo? Ma questo non chiedetelo a me Ma che gli succede? Toglietemi dalle scatole Capo, vi sentite male? Capo, vieni da l'altra, vieni da l'altra Vieni da l'altra Vieni da l'altra Avrò bisogno della valutazione dei costi e di una relazione battuta a macchina Sarà pronta nel pomeriggio, direttore Ah, ho già riservato il volo per Ginevra E il denaro? Ho preparato 10.000 franchi svizzeri e uno scec Siete in gamba, pensate proprio a tutto Battetemi quel rapporto e fatemi quel paio di telefonate È tutto? Ah, annullate gli appuntamenti di venerdì E passatemi il capo contabile Signorina, mi sentite male? Dovrei andare, signor direttore, scusatemi Signorina Debo andare, debbo Calmatevi Mi chiamano, mi stanno chiamando, devo andare Voi si ragionate, avanti, sedete No, lasciatemi Capitano Norizze, misura di sicurezza Lo Skydiver 3 deve salpare entro le 21 di stanotte Ricevuto? Ricevuto, sarò a bordo Ho ordinato ai comandanti degli Skydivers 1 e 2 di restare in alto mare fino a nuovo ordine In mezzo all'oceano i sottomarini saranno al sicuro Ma che diavolo state cercando Ah, ah, ah Ah lasciatemi No, no, no. No, no, no. Dalla centrale chiedono il video Bene Comandante, è già salpato lo Sky Diver 2? Esattamente da tre minuti, signore Sky 3, controllato lo scafo? Da cima a fondo con gli elettroanalizzatori e Geiger Allora crepi il lupo E crepi Adesso non ci resta che attendere E prevenire Non ho mai dimenticato quel lupo scomparso Sotto lo schermo del radar Sottotitoli 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 Controllo È arrivato il capitano Lorizio Bene, lo aspettavamo Puoi aprire, Jack Buonasera, capitano Buon lavoro Il vostro lascia passare Identificazione, ok Ah, c'è la valigia Tutto a posto Impronte digitali, prego Controllo Impronte, ok C'è altro? Un attimo Attendo l'ok del laboratore elettronico Checca a positivo Potete entrare, capitano Passami lo skydiver Skydiver Dov'è adesso? Bloccato nell'elevatore Salvati immediatamente, capitano Saremmo fuori base in tre minuti Molla gli ormigi Ormigi mollati Chiudere il portello di Torretta Chiudere il portello di Torretta Chiudere il portello di Torretta Controllo elettronico 1-2 Controllo elettronico 1-2 Controllo elettronico 1-2 Contatto Attenti ragazzi Avanti piano Avanti piano Avanti piano Sono presto Maledizione Sparito Sono idiozie L'informazione è precisa Foster Ha forzato la porta di sicurezza Skydiver 3 È assolutamente ridicolo Una porta d'acciaio di 5 cm Non cede tanto facilmente Skydiver invidia È molto probabile Che abbiate un sabotatore a bordo È riuscito a salire Non può essere che in Torretta Controlliamo? Tenetemi costantemente informato Io sono in sala operativa Sì signore Armamento leggero Sì signore Ascolta Signore c'è qualcuno in Torretta Come prevedevo Dannazione Possiamo tentare di prenderlo Sarebbe inutile capitano Avete raggiunto la zona di immersione? In questo momento Immersione allora Come? Ho detto immersione Quel sabotatore va arrestato Ce ne occupiamo noi comandante Capitano È un ordine preciso il mio Immersione 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 Quell'uomo deve essere in possesso di una forza sovrumana, comandante Straker Invece che forza sovrumana, diciamo estranea E voi siete il terzo sulla lista Per il momento pensiamo a difendere Shadow Colonnello inserite nel computer ogni dettaglio raccolto fin qui, anche quelli insignificanti e invertite il programma se necessario Guardate qui, Leic Potrebbe essere una traccia, controllerò i dettagli Prego Buongiorno direttore Non vi aspettavo, dopo quanto è accaduto Mi è venuto il dubbio che poteste perdere l'aereo Non siete mai rientrata a casa, vi ho fatta cercare, sapete? Non c'è da preoccuparsi Miss Simpson, spiegateli Spiegarmi? Ieri mattina, voi? Sì, cosa? Penso che dovreste farvi visitare Consultare un medico Vi parlo come ad una figlia Ma io non sono vostra figlia, capito? D'accordo, provvederò Forse abbiamo una traccia Clark e Mason erano dello stesso quartiere Il computer ha elaborato un rapporto di polizia Il rapporto dice, due notti fa un poliziotto della stradale è rimasto ucciso Il medico legale ha stabilito che è stato strangolato da una mano dotata di forza eccezionale Che ne dite? Il poliziotto fece rapporto alle 21.44 comunicando via radio il numero di un'auto abbandonata Il referto ha fissato la sua morte intorno alle 23 L'auto abbandonata appartiene a Linda Simmons Una segretaria d'azienda che abita nella stessa zona di Clark e Mason Sono molte le coincidenze, Foster Controllate Foster a rapporto L'appartamento di Linda Simmons non risponde Scusate, è il passo Grazie Prego Com'è accaduto? Lo hanno fatto fuori Chi era? Un cervello da direttore d'azienda Adesso è soltanto un cervello di marmellata Linda Simmons? Sì Mi chiamo Paul Foster Come fate a conoscere il mio nome? Un paio di sere fa percorrevate la statale 107 È vero? Con quell'auto Sì State indagando? Non sono un poliziotto Ma un poliziotto mi fermò E mi sto ancora chiedendo il perché Vorrei proprio parlare di questo D'accordo Facciamo due passi Se volete Nel parco? Paul Potrebbe essere Linda Simmons Ma considerata assai pericolosa per noi Paul Dunque signor Foster Facciamo scena mute? C'è troppa gente qui Dove allora? Andiamo a laghetto La permanenza di quell'ufo sfuggito alle ricerche sfiora le 48 ore Dovrà decollare se non vuole disintegrarsi Inviate i semoventi nel settore 3 Sì signore Trasmettiamo l'ordine Sono tutti all'erta comandante Bene Notizia di Foster? Sparito L'ora intracceranno Non siete stata in ufficio oggi? Come sapete che lavoro in un ufficio? Spesso indovino Il mio capo è partito per Ginevra È un affarista Un concorrente? È un uomo riservato E voi invece come siete? Guardate quei due cigni Il secondo sono io Destinato a seguirvi Perché no? Mi sembra di conoscervi da sempre Forse è proprio così Il secondo è un uomo riservato Allora quell'UFO? Ricerca negativa signore Quella è la zona Dovete insistere Attenzione Semoventi Shadow 1, 2, 3 Insistere in zona Insistere in zona Skydiver 2 Pronto per il lancio Passo Da Skydiver Al comando Shadow 3, 2, 1 Zero Lo abbiamo avvistato È davanti a noi Notte artificiale Foster è appena arrivato agli studios Sta scendendo comandante Quella donna La Simons è insieme a lui Finalmente Ma il compito della Simons È di uccidervi Nel suo programma C'è anche la distruzione di Shadow L'affronterò con i miei metodi Appena arriva qui in centrale Isolate la subito Nella stanza 21 Ma comandante Colonnello è tutto Nella stanza 21 Fermatevi Ho detto Fermatevi Non costringetemi a sparare Ancora un passo Area 4 blu Radar segnala scia positiva Skyroqueter 4 al controllo Abbiamo l'UFO nello schermo Che distanza? A tiro entro 60 secondi Fermatevi 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 Ci avete dato un ultimato Arrendetevi Dovete Dovete arrendervi Abbandonate Shadow Non possiamo farlo Sapete benissimo Che non possiamo La vostra Shadow Morrà con voi Straker Allora finiamola Con questa farsa L'UFO che vi controlla È stato abbattuto Non siete più Una bomba psicologica Linda Simmons Siete soltanto Una donna Vedremo Vedremo Straker Linda Soccorretela Linda L'UFO si è disintegrato Non ditemi che avete giocato d'azzardo Calcolando le 48 ore È così Controllo parametro 3 standard Shadow dopo le psicobombe umane È diventato un posticino quieto Rischiamo le ragnatele ragazzi Oh i ragni portano fortuna Certo ma vanno su e giù Appesi da un filo sottile Poi arriva qualcuno E lo spezza Qui base luna Ambra G verde Tutto procede Il prossimo collegamento Alle 7 Priorità pentagono Washington al comandante Straker Shadow Il generale Anderson Attende con ferma Ispezio È un pazzito Comandante Comandante Fermatano Fermatano Inseguitelo Emergenza Emergenza Il comandante Straker Ha perso il controllo Dobbiamo fermarlo Attenzione È pericoloso Comandante Che ore sono? Le 7 e 20 Ma che cosa vi è accaduto Comandante? Che nessuno Esca d'asciato Un momento ma Nessuno Capito? Ma che è più fortuna incontrarvi Per questo oggetto Il cinematografico Ma io Ehi State tranquilli Il lavoro Procede Passamelo il cabello Va avanti Piano Di là E' più fortuna 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 Eccolo Ferma, frega, ferma Comandante, mi sentite? Virginia X-50 Ma perché, comandante? Perché? Sì Rienizione che gli avete fatto può producere un effetto, dottor Jackson? L'ho premessa generale Dante X-50 può aprire la sua mente o distruggerla per sempre Ed Straker, mi sentite? Sono il dottor Jackson Vi rammentate di me Cosa vi è accaduto, Straker? Cosa? Cercate di ricordare 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 Dove ero? Dove eravate, Straker? Dove? Avevo prelevato Il colonnello Lake Ecco perché vi ho cercata prima dell'incontro col generale Anderson Non mi ero illusa che foste venuto per me Colonnello, rientrare da Baseluna potrebbe avervi, diciamo, disorientata Certi viaggi hanno effetti negativi sulla psiche Sulla mia? Non credo proprio, comandante Visto? Cosa? Forse è un meteorite O il faro di una moto in corsa lungo una strada di montagne Non ci sono montagne Da queste parti, colonnello Concentratevi su un'altra possibilità Che cosa potrebbe essere? E chi lo sa? 15 gradi ovest Allora è venere Se quella è venere Voi siete sua sorella No, ma vorrei tanto esserlo, comandante E se invece fosse uno dei nostri? Quello è un UFO Straker ha controllo Shadow Un UFO è entrato in atmosfera terrestre Pronto? Shadow è isolata Perciaro extra Il frattore stress Un' super Cap Èil Il라고 Un' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è il sole. Un UFO può anche tramutare la notte in giorno. E qui che succede? Che cos'altro è accaduto, comandante? Che cosa? Il tempo. Hanno bloccato il tempo. Ma è pura follia. E' come se tutto fosse congelato. Io mi rifiuto. Mi rifiuto di crederlo. Straker! Scendiamo in centrale. Quel UFO è ancora lassù. Dobbiamo scoprire come è riuscito a passare. Bloccata anche Baseluna. Il generale Anderson, adesso lo chiamo. E' l'unico che può darci assistenza. Pentagono, Pentagono, rispondete, presto. Isolato. Come tutto qui a Shadow. Come tutto ciò che era in funzione nell'attimo del congelamento. Ma siamo scesi con l'ascensore, ha funzionato. Non era in movimento quando è avvenuto un bloccaggio. Straker, che mi succede? Sono stanca, non riesco più a reagire. Anch'io. Fermiamoci, colonnello. Devo riflettere un attimo. Vediamo gli orologi da polso. Devono essersi fermati quando siamo arrivati agli studios. Come quello. Ci restano pochi secondi. Dove... Dove andiamo? Al centro medico. Non esistono altre possibilità. Per superare base a luna e viaggiare più veloce e errata. Hanno dovuto bloccarlo. Sì, bloccarlo. Hanno... Hanno dovuto fermare il tempo. Siamo alla fine, ormai. È la fine. Lo sento, Straker. Non serve più lottare. Quell'ufo può controllarci fino a quando resiste il campo di pressione che... Che ha creato sopra di noi, come le onde di pressione davanti a un aereo. Ecco perché quell'ufo non ha potuto ancora atterrare qui. Straker dovete pensare a Shadow, non a me. Il mondo non ha bisogno di eroi, colonnello. Sulla manica è stata zitta. Ma... Ma... Quando arriveranno fin qui? Non lo so. Non lo so. Forse... Forse avremo una risposta quando torneremo nella sala comando. Come va? Meglio. Cos'è quel liquido? X-50. Velocità di reazione 10 volte superiore al normale. Cuore, muscoli e cervello perfettamente coordinati. Una formula che in esperimento ha fornito buoni risultati. Lo sento. Ma che poi fu messo da parte perché giudicato troppo pericoloso. Del resto non avevamo altra scelta. Non riesco a capire come abbiano bloccato la sala comando. È costruita per esistere a ogni campo di forza sconosciute. Comandante. Cosa c'è? Ho visto qualcuno muoversi. Laggiù. Ha preso l'ascensore. Un momento. Tenete. È un rivelatore. Stryker, sono qui. Non puoi vedermi, super cervello. Ma puoi sentirmi più che bene. Sono Turner. Turner, l'operatore del radar. È lì. Adesso comincia a capire. Stryker, adesso non sei più il grande uomo a guardia del mondo. Sei meno di dieci, Stryker. È lì dentro. Vieni a cercarmi, comandante. Sono più vicino di quanto tu possa immaginare. Vieni a cercarmi. Vieni a cercarmi. Vieni a cercarmi. presto salite sparate alle gomme se ne è andato dobbiamo scovarlo Erner sta cercando di guadagnare tempo vuole che si esaurisca il campo di pressione poi l'UFO scenderà e sarà la fine e sarà la fine Stryker ti sono molto vicino adesso viene dall'alto camerini superiori il mondo è fatto di uomini Stryker di quelli che cercano di quelli che vogliono che prendono che prendono tutto come me non serve il rivelatore grand'uomo sono in fondo al ballatoio super donna Virginia Stryker adesso sono qui e poi non ci sono non ci sono più sto perdendo le forze UFO il 50 presto presto devo alzardare ancora vorrei un'altra iniezione anch'io se sarà necessario aspettate il bazooka è l'ultima speranza comandante non potete farcela in queste condizioni non potete ho fatto la mia scelta qualche anno fa tenete perché perché un solo proiettile perché avremo una e una sola possibilità presto caricate ma è ancora distante io non azzarderei è troppo distante e noi lo aspetteremo voglio sentire il vento e i suoi motori comandante e se doveste mancarlo andate all'inferno e Turner! 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 Voglio quella chiave, Turner! Vieni a prenderla! Tra poco scenderanno giù e tu non puoi farci niente! Sempre in ritardo, Streicher! La mia bocca è chiusa, eppure odi la mia voce! Io sarò il nuovo capo qui, me lo hanno promesso, per questo ho collaborato! Quella chiave lo sparo! A che ti serve ormai, Streicher? Adesso io parlo, eppure non sono più qui! Sono proiezioni quelle che vedi! Io ho sistemato un pezzo nel radar della sala comando, creando un ponte con l'uffo! Sei fregato, Streicher! A te! A te! A te! A te! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anche se non potremo provarlo male.